Quante giorni del soffitto, mamma mia, guarda che cazio di Dio, mi se sarà rotto un tubo dell'acqua, che mamma mia, allora dice mi se è rotto un tubo dell'acqua, chiamalo l'idravo, viene lì a casa, eh no madonna che cazio, no ma qui ci vuole un giorno di lavoro, dalla mattina alla sera fitto, no? Ha detto ma io capirai vado a faticare, ha detto vabbè ma te non ti preoccupare, io mi metto qui ha spregato tutto il cuore, te dormi la sera e io ancora sto qui, ha detto ah vamo così, vabbè dai, ah mi so scordato una roba, c'ho un mio fiolo, beh, ha detto è piccolo, non so non lo lasciarlo, lascio qui con te, ha detto lascio qui con me che me ne prendi, ha detto sì però ti avviso, mio fiolo è una rotta dei coglioni, ha detto in che sei? Nel senso che questo ti fa mille domande, ma c'ho un sacco di fioli, non ti preoccupare, vabbè, allora questo va via, lascia con questo fiolo, pia una scala, pia della cassetta degli attrezzi, pia un martello, no? Monta in cima a questa scala, comincia a sbregare il muro, no? Allora questo fiolo guarda e fa, quello cos'è? Mi dice, è un martello, mi dice, sai che mio padre ce ne ha due martelli? Ce ne ha uno piccolo per i chiodi piccoli, uno grosso per i chiodi grossi. Sprega il muro, allora gli serviva, era arrivato un bel tubo, gli serviva una chiave inglese, allora cala giù, stufiolo, allora questo, pia una chiave inglese, monta su, pia una cosa lo fa, quella cos'è? E questa è una chiave inglese. Ah, sai che mio padre ce ne ha due chiave inglese? Ce ne ha una piccola per i dadi piccoli e una grossa per i dadi grossi. Allora finito gli serviva un cacciavite perché c'era una faccetta, no? Allora cala giù dalla scala, stufiolo, capito? Allora questo, pia un cacciavite, armolta su, pia, cosa? Hai fatto? Oh, e quello cos'è? No, madonna, te lo sapevo. C'era ragione il padre. E questo è un cacciavite. Ah, dice un cacciavite. Dice, sai che mio padre ce ne ha due cacciavite? Ce ne ha uno piccolo per le vittarine piccole e uno grosso per le vittarine un po' più grosse. C'è un cacciavite. Certo momento, mezza mattinata che fadigava e scappava un po' sull'acqua pura lui. Allora cala giù dalla scala, stufiolo, punto, no? Allora fa... Questo invece non piava niente, va verso il bagno, stufiolo dietro. Allora questo va in bagno, stufiolo guarda dalla finestra del bagno. Allora gli dice, questo sai che mi andava a pisciare. Ma stufiolo guardava, questo guardava. Se guardava, questo se guardava, quell'altro guardava. Allora il scufiolo gli dice, ma quello cos'è, un pisello? Mi dice, sì, mi dice, questo è il pisello. Ha detto, pure di questi tu padre ce ne ha due. Mi dice, sì, ce ne ha uno piccolo ce fa la pipì, uno grosso ce lava i denti a mamma. Grazie.